Vibo Valencia, false attestazioni per ottenere i buoni spesa Covid. Carabinieri segnalano 350 persone alla procura della Repubblica di Vibo Valencia. False attestazioni per ottenere i buoni spesa Covid. Quanto scoperto dai carabinieri delle compagnie di Serra San Bruno e Tropea, conclusione di una articolata attività di verifica e controllo in ambito economico coordinata dalla procura della Repubblica di Vibo Valencia guidata dal procuratore Camillo Falvo. In 350 sono stati denunciati in stato di libertà con l'accusa di false attestazioni a incaricato di pubblico servizio. Fra questi 296 sono stati denunciati anche per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Fra i soggetti deferiti ci sono anche affiliati all'andrangheta che avevano certificato il falso pur di ottenere i buoni spesa. Si tratta di fondi stanziati, come si ricorderà, per sostenere le famiglie indigenti durante la pandemia ma che in parte sono finiti nelle tasche dei cosiddetti furbetti sparsi in ogni angolo della provincia di Vibo Valencia. I buoni spesa sono stati erogati direttamente dai comuni a persone che autocertificavano il proprio stato di difficoltà economica sulla base di bandi stilati dagli stessi comuni. Lo scopo era quello di aiutare le fasce più deboli per acquistare alimenti, farmaci ed altri beni di prima necessità. L'indagine segue un arco temporale che va da aprile del 2020 fino ad oggi. I cittadini segnalati dai carabinieri all'autorità giudiziaria risiedono nei comuni di Vibo Valencia, da Salimbadi, Mongiana, Ioppolo, Nicotera, Pizzo, Nippolia, Riccadi, Rombiolo, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Sorianello, Vazzano, San Calogero, Spilinga, Zaccanopoli e Zungri. Gli accertamenti effettuati dai carabinieri hanno consentito di verificare che gli indagati aderenti ai bandi dei comuni di residenza hanno fornito false attestazioni dichiarando di trovarsi in condizioni di indigenza con lo scopo di indurre in errore gli enti locali e dal fine di ottenere un ingiusto profitto. Per procurarsi il beneficio sono state quindi fornite informazioni mendaci dalla falsa attestazione sulla residenza e del numero dei componenti del nucleo familiare all'omesso falsa indicazione di ricevere nello stesso periodo alti sussidi sociali come indennità di disoccupazione, pensione di invalidità, indennità di maternità e lo stesso reddito di cittadinanza che superata una certa soglia non avrebbe consentito l'ottenimento del buono alimentare. Diverse poi le anomalie riscontrate durante l'attività investigativa c'è chi percepiva regolarmente il proprio reddito da lavoro dipendente perché evidentemente rientrante fra le categorie che hanno potuto continuare a prestare la propria attività o anche soggetti che a seguito di accertamenti sono risultati essere possessori di decine di migliaia di euro in buoni postali depositati. Per ricostruire la situazione economica dei cosiddetti furbetti, i carabinieri delle stazioni si sono avvalsi della collaborazione dell'Inps, delle banche dati in uso alle forze di polizia ed in tali casi anche degli istituti di credito. Sono così emerse una serie di irregolarità per un danno irrareale complessivo stimato in circa 100.000 euro. I 350 indagati rischiano una pesante sanzione amministrativa compresa fra i 5.000 e i 25.000 euro, somme molto superiori rispetto al beneficio illecitamente conseguito. L'attività non è tuttavia conclusa. Ulteriori controlli sui percettori di elargizioni sociali sono in atto nei restanti comuni della provincia di Vibbo, Valencia. Per Teleionio Bruno Cirillo. Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito un sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro nei confronti di due imprenditori indiziati di contiguità all'Andrangheta. Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata con il coordinamento della locale procura della Repubblica a direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore capo Giovanni Bombardieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro di beni costituito da compendi aziendali, beni immobili e rapporti finanziari per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di Santo Furfaro e Rocco Alampi, imprenditori indiziati di contiguità allo storico casato d'Andrangheta territorialmente denominato Cosca Piromalli e gemone nella piana di Gioia Tauro. La figura criminale dei due emerge dalle attività di indagine esperite nell'ambito della operazione Galassia del nucleo PEF con l'ausilio del Servizio Centrale ICO a conclusione della quale erano stati arrestati 20 soggetti fra i quali sia Santo Furfaro proprio per i collegamenti economici con la Cosca Piromalli sia Rocco Alampi socio di Santo Furfaro con ruolo organizzativo vicario. In tale occasione erano state inoltre sequestrate 23 società estere, 15 imprese operanti sul territorio italiano, 33 siti web nazionali ed internazionali, numerosi immobili, automezzi e conti correnti italiani ed esteri nonché innumerevoli quote societarie e disponibilità finanziarie riconducibili ai predetti. A tal riguardo il gruppo investigazione e criminalità organizzata GICO del nucleo di polizia economico finanziaria di Reggio Calabria e lo SCICO di Roma eseguivano su delega della locale direzione distrettuale antimafia con il coordinamento del procuratore aggiunto Calogero Gaetano Pace e del sostituto procuratore Stefano Musolino mirate indagini economico patrimoniali sul conto fra l'altro degli ODN proposti e dei rispettivi nuclei familiari. In tale contesto, valorizzando le funzioni proprie della Guardia di Finanza nella prevenzione e contrasto ad ogni forma di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico del Paese, la pertinente attività investigativa ha consentito di accertare la sussistenza di una significativa sproporzione tra il profilo reddituale e quello patrimoniale dei proposti e dei rispettivi nuclei familiari. Alla luce di tali risultanze, in aderenza alle ipotesi investigative delle fiamme gialle e della locale direzione distrettuale antimafia, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, presieduta da Ornella Pastore, ha disposto nei confronti degli imprenditori la misura cautelare del sequestro avente ad oggetto il relativo patrimonio illecitamente accumulato, costituito da quattro imprese commerciali comprensive dell'intero patrimonio aziendale, 10 fabbricati, 5 terreni, 2 autoveicoli, un motociclo, 9 polizze assicurative, nonché ulteriori disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. L'attività di servizio testimonia ancora una volta l'elevata attenzione mantenuta dalla Guardia di Finanza che nel solco delle puntuali indicazioni dell'autorità giudiziaria è costantemente rivolta al contrasto alla criminalità economica e organizzata attraverso l'intercettazione e la repressione di ogni forma di inquinamento dell'economia legale per salvaguardare gli operatori economici e di cittadini per Teleionio Bruno Cirillo. La Guardia di Finanza di Crotone è restato uno spacciatore con oltre un chilogrammo di cocaina purissima. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone hanno arrestato un pluri pregiudicato che circolava a bordo di un veicolo con oltre un chilogrammo di cocaina purissima. Nell'ambito di una intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio attuato tramite il cosiddetto dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti che costituisce uno dei cardini della strategia operativa del Corpo della Guardia di Finanza è stata sottoposta a controllo l'autovettura guidata da un uomo lungo la strada statale 106 nel tratto compreso fra i comuni di Torretta di Crucoli e Ciro Marina. A seguito dell'analisi dei documenti del conducente che ha da subito manifestato segni di agitazione e dall'approfondimento effettuato tramite le banche dati in uso a corpo dalla quale è stato possibile verificare precedenti specifici in capo all'uomo è stato richiesto l'ausilio delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza Babbel e Val presenti sul posto. L'azione degli specialisti consentiva di segnalare la presenza di sostanza stupefacente attivando pertanto l'esecuzione di un'accurata ispezione del veicolo che permetteva di rinvenire un invrologo contenente circa 1,2 kg di cocaina purissima abilmente occultato all'interno dell'autovettura nelle intercapedini dello sportello anteriore lato passeggero. Le fiamme gialle hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente che se tagliata ed immessa in commercio avrebbe fruttato un guadagno di oltre 250.000 euro e dall'arresto dello spacciatore nei confronti del quale il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Crotone ha disposto l'accompagnamento presso la casa circondariale di Crotone. Tale risultato testimonia la presenza capillare ed efficace sul territorio da parte della Guardia di Finanza ai fini della ricerca, prevenzione e repressione di ogni tipologia di traffico illecito che possa rappresentare una forma di arricchimento illegale da parte della criminalità organizzata. Per Tele Ionio Bruno Cirillo Rinviato a giudizio Carmelo Manglaviti E' stato rinviato a giudizio Carmelo Manglaviti, l'ex responsabile del servizio cimiteri per i comuni di Reggio Calabria, accusato di concorso esterno con l'Andrangheta per aver favorito la cosca Rosmini nei processi di imposizione del monopolio sui lavori edili all'interno del cimitero di Modena, un quartiere della zona sud della città dello stretto. Al termine dell'udienza preliminare lo ha stabilito il GUP Valerio Trovato, accogliendo la richiesta presentata dal sostituto procuratore della DDA, Sara Amerio, che assieme al procuratore Giovanni Bombardiere e al PM Stefano Mussolino ha coordinato l'inchiesta Gemeteri Boss sui clan Rosmini e Zindato. Le indagini hanno fotografato anche le frizioni tra le due cosche per il controllo di Modena. Sono stati rinviati a giudizio anche gli altri cinque imputati che hanno scelto il rito ordinario. Si tratta di Mirella Patrizia e Crisalli, Rosaria Nicolò e Carmelo Puleo, accusato di intestazione fittizia. Il 6 ottobre prossimo inizierà il processo pure per Nicola Lampi e Roberto Puleo, imputati per associazione mafiosa. Con l'inchiesta Gemeteri Boss, condotta dalla squadra mobili, PM Mussolino e Amerio sono riuscite a ricostruire gli asset e le dinamiche criminali della cosca Rosmini, federata alla famiglia mafiosa dei Serraino. Nel maggio dell'anno scorso 10 persone erano state arrestate in esecuzione di ordinanze del GIP su richiesta della DDA di Reggio Calabria. Stalking minaccia l'ex e il nuovo compagno, divieto di avvicinarli per un 34enne a Cosenza. Personale della squadra mobile di Cosenza ha notificato ad un 34enne un'ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e dal compagno convivente della stessa e in particolare al luogo dove la coppia vive e dove lavorano e di non parlare con loro. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della procura diretta da Mario Spagnuolo. L'indagato, già noto alle forze dell'ordine, è ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni dell'ex compagna. Dalle indagini sarebbe emerso che l'uomo, già rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia sempre ai danni dell'ex compagna dalla quale è separato, continuava a inviarle messaggi di minacce di morte. Inoltre, dopo aver saputo che la donna aspettava un figlio dal nuovo compagno, la tempestava di sms a tutte le ore del giorno, ingenerando nella coppia un fondato timore per la loro incolumità. Lo stalker avrebbe anche tentato di costringere la donna a ritirare le denunce da lei presentate nei suoi confronti, facendole intendere chiaramente che se non avesse ceduto non si sarebbe dovuta meravigliare di qualche danno all'autovettura o se qualcuno l'avesse presa a calci nella pancia. La vittima, seppur terrorizzata, è stata ferma nella sua decisione e non si è fatta intimorire. L'esperienza del personale della terza sezione reati contro la persona, reati contro i minori e reati sessuali della squadra mobile ha consentito agli investigatori di aiutare il nucleo familiare a superare le paure e di ricostruire la vicenda che ha consentito l'emissione della misura cautelare. Per Teleionio, Maria Caterina Sanzo. Condannato per violenza sessuale. Si ribalti in appello il giudizio di un 55enne di Cittanova, riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne dalla Corte d'Appello di Reggio Calabile, in riforma dell'assoluzione in primo grado del Tribunale di Palmi. I fatti risalgono al 2018, quando secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Tauria Nuova, l'uomo aveva convinto una ragazza minorenne affetta da lievi infermità a seguirlo nella sua abitazione con l'ascusso di doversi prendere delle bevande. Sfruttando il rapporto di conoscenze e di fiducia instaurato tra di loro nell'ambito parrocchiale, le indagini dei carabinieri svolti con il coordinamento della Procura di Palmi e con l'ausilio di personale specializzato nell'ascolto di vittime di violenza avevano portato a identificare il presunto autore che fu arrestato nel Master 2019. Nel gennaio 2020 tuttavia il Tribunale di Palmi aveva assolto l'imputato in quanto pur riconosciuto come venuti i fatti ricostruiti non era stata riconosciuta la violenza costruttiva o l'induzione in danno del minore, valutando l'evento come un rapporto essenzialmente consensuale. Il Pubblico Ministero di Palmi, Davide Lucisana, ha presentato appello rinnovando le richieste di condanna, oggi accolta dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che è dichiarato l'uomo ne colpevole del reato di violenza sessuale aggravata, dell'abusta e delle condizioni di inferiorità psichiche dalla persona offesa, condannando l'uomo, su richiesta del Procuratore generale di Reggio Calabria, a tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre che al pagamento e all'esarcimento dei danni alle parti civili. Nell'ambito dell'indagine è rimasto coinvolto anche un parroco di Cittanova, tuttora imputato per false informazioni al Pubblico Ministero. Il prelato, infatti, secondo l'accusa mostre dalla Procura di Palmi, sentito nel corso dell'indagine come persone informate sui fatti, avrebbe reso dichiarazioni false e reticenti, omettendo in particolare di riferire al magistrato di essere stato messo a conoscenza delle violenze subite dal minore, che frequentava il circolo parrocchiale insieme al condannato. Il minore e i suoi familiari, secondo l'accusa, sarebbero invece subito rivolti e confidati con il parroco per poi presentare denuncia ai carabinieri. Per Teleionio, Salvatore Condito. Detenzione ai fini di spaccio, arrestato quarantenne a Cosenza. Continua senza sosta il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, nel capoluogo Bruzio. Nel corso di un servizio coordinato a largo raggio, i militari della stazione di Cosenza Centro hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio un quarantenne cosentino e segnalato quali assuntori di stupefacenti altre sei persone. Nella mattinata di ieri, i carabinieri hanno eseguito una serie di ispezioni e perquisizioni nel centro storico, che si sono concluse con l'arresto di un cosentino ed il recupero di un discreto quantitativo di sostanza stupefacente. L'uomo, all'ingresso dei militari nell'appartamento, ha subito consegnato 23 grammi di marijuana, asserendo di essere un semplice assuntore e che quella era l'unica sostanza presente nell'abitazione. La versione del ragazzo non ha però convinto gli investigatori, che da tempo tenevano sotto osservazione la zona. La perquisizione è così proseguita fino al ritrovamento di ulteriore stupefacente, ben occultato in una stanza di vita a magazzino. All'interno di un mixer audio, i carabinieri hanno trovato 140 grammi di cocaina, con un grado di purezza molto elevato, di circa l'89%, così come documentato dalle analisi eseguite presso il laboratorio del comando provinciale i carabinieri di Vibo Valencia. La sostanza stupefacente, che sarebbe potuta essere tagliata in 700 dosi se immessa sul mercato, avrebbe garantito un introito di circa 13 mila euro. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. Processo alla mezzia terme. Si chiude con la condanna per l'imprenditore Giuliano Caruso e il commercialista Gianfranco Antonello Muraca, il processo scaturito dalle indagini iniziate circa tre anni fa, dalla procura di la mezzia terme e dalla Guardia di Finanza, dalle indagini condotte dal gruppo di la mezzia terme e della Guardia di Finanza, guidato dal tenente colonnello Fabio Bianco, sarebbe emesso un complicato sistema illecito di prestito usuraio, al quale avrebbero tentato di dare parvenze legali Caruso e Muraca, assistiti dai legali Francesco Gambardella e Antonio Larussa, ai quali sono state concesse le attenuanti generiche. Sono stati condannati rispettivamente alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e un anno e quattro mesi, oltre a 6.000 euro di multa per Caruso e 3.300 euro per Muraca. Sono stati inoltre condannati in solito tra loro all'esarcimento della parte civile, rappresentato l'Avvocato Michele Gigliotti, da liquidarsi in separata sede con riconoscimento in approvisionale di 50.000 euro e rimborso delle spese relative alla Costituzione, stabiliti in 2.880 euro. Il giudice Rossella Prignana ha disposto inoltre la confisca di quanto era stato posto sotto sequestro per un valore di 110.000 euro. Secondo la ricostruzione effettuata agli inquirenti prima e dal PM Marta Agostini, l'imprenditore che avrebbe subito l'usura in un momento di difficoltà finanziare della sua azienda sarebbe stato costretto a sottoscrivere un contratto di associazione in partecipazione regolarmente registrato con il quale accettava l'apporto di capitale erogati per 250.000 euro che avrebbe dovuto restituire mediante il versamento di rate mensili con interesse pari al 23%. Tale strumento, secondo l'accusa, avrebbe voluto celare quella che sarebbe stata una vera e propria pattuizione usuraia. L'associazione in partecipazione è un contratto di scambio con il quale l'associato apporta un finanziamento all'impresa e come contropartita partecipa agli utili della stessa. Nel contratto stipulato tra gli indagati e l'imprenditore, secondo quanto emersi dalle indagini, la clausa derivante sarebbe stata quella che prevedeva a fronte al finanziamento un reddito minimo garantito anno di 69.000 euro per sei anni mediante rate di 5.750 euro al mese e al termine di tale periodo la restituzione dell'intero capitale. La Mezia sfruttavano commesse, rinviati a giudizio due imprenditori. Sono stati rinviati a giudizio i due titolari della profumeria che nel luglio del 2020 erano stati raggiunti da un provvedimento cautelare del controllo giudiziale della loro azienda. I due erano stati indagati per il reato di sfruttamento che avrebbero commesso nei confronti di tre commesse. Il provvedimento è stato emesso dal Gip Rossella Prignani. Gli imputati GM e GA difesi dall'avvocato Teodoro Palermo e dall'avvocato Lucio Canzoniere, dopo la richiesta del PM Giuseppe Falcone, sono stati quindi rinviati a giudizio. Le indagini svolte dal gruppo Nucleo operativo Nucleo mobile della Guardia di Finanza di La Mezia, sotto la direzione della Procura della Repubblica, guidata dal procuratore Salvatore Curcio, hanno avuto origine da una denuncia presentata al gruppo della Guardia di Finanza di La Mezia. Le fiamme gialle hanno poi avviati immediatamente le indagini di iniziativa, volte ad acquisire elementi di riscontro da comunicare alla locale Procura della Repubblica. In particolare è stato svelato che gli imprenditori, almeno dal novembre del 2016 all'ottobre del 2018, avrebbero sottoposto tre delle loro commesse a condizioni di sfruttamento, corrispondendo loro retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e con la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro e alle ferie, approfittando del loro stato di bisogno derivante dall'assenza di diverse opportunità occupazionali sul territorio. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. Drangheta, rinascita Scott, processo a Vibo Valencia per altri sei imputati. Sarà il Tribunale collegiale di Vibo Valencia a dover giudicare ulteriori sei imputati coinvolti nell'operazione rinascita Scott della direzione distrettuale antimafia, da cui è nato il maxiprocesso all'andrangheta del Vibonese, attualmente in corso di svolgimento nell'aula bunker dell'area industriale di La Mezzia Terme. Il Tribunale di Catanzaro ha infatti stamane riconosciuto l'incompetenza territoriale e funzionale sollevata dagli avvocati di Giorgio Naselli e Giuseppe Calabretta. In particolare gli avvocati Giuseppe Fonte, Gennaro Lettieri e Rocco Di Leo avevano chiesto lo spostamento del processo al Tribunale di Teramo, ma i giudici catanzaresi hanno deciso per la competenza territoriale del Tribunale di Vibo Valencia. Gli imputati sono Giorgio Naselli, 54 anni, nativo di Piacenza, residente a Teramo, ex comandante provinciale dei Carabinieri di Teramo, poi vice comandante del gruppo sportivo Carabinieri, avvocati fonti e lettieri. Giuseppe Calabretta, 52 anni, di Pineto, l'imprenditore Rocco Delfino, 59 anni, di Satriano, Salvatore Delfino, 31 anni, figlio di Rocco, Roberto Forgione, 39 anni, di Rizziconi, socio di minoranza di Rocco Delfino, Ilenia Tripolino, 32 anni, di Marina Di Gioiosa, fidanzata del figlio di Rocco Delfino. Le accuse vanno a vario titolo, dal trasferimento fraudolento di Valori alla rivelazione di segreti d'ufficio. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Deposito irregolare di veicoli a conflenti. Denunciate tre persone. Un deposito irregolare di oltre 70 veicoli, motori, parti di carrozzeria, pezzi meccanici, nonché batterie auto e oli esausti. Il tutto in evidente stato di abbandono su suolo permeabile, con danno per l'ambiente. Questo è il quadro della situazione che i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Soveria Mannelli, unitamente ai colleghi della stazione Carabinieri Forestale di Lamezia Terme, hanno accertato nel comune di conflenti. Difatti, nel corso di un servizio finalizzato al rispetto delle norme ambientali e alla salvaguardia della salute pubblica, i militari dell'arma hanno denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria tre persone del posto, resisi responsabili di inquinamento ambientale continuato in concorso per aver esercitato l'attività di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in assenza della prevista autorizzazione, creando per l'appunto un deposito incontrollato degli stessi e non provvedendo al loro corretto smaltimento. Le indagini hanno permesso di appurare inoltre che gli automezzi abbandonati nonché il materiale vario giaceva in quattro distinti siti, ricadenti in un'area di oltre 1.500 metri quadri. Nel corso dell'attività agli operanti hanno proceduto anche al sequestro preventivo di un'officina meccanica e di un'autocarrozzeria. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. I roghi a disca, in carcere l'indagato. Da esecutore materiale, ammandante degli incendi di autovetture e la parabola criminale di Antonello Lucifero, 45 anni, trasferito in carcere dai carabinieri della compagnia di Soverato, che hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare emessa nei suoi confronti dal GIP di Catanzaro Teresa Guerrieri. Lucifero si trovava già in regime di arresti domiciliari, in quanto accusato di essere l'autore dei quattro incendi di auto che nei mesi scorsi avevano turbato la tranquillità della comunità di Isca. Il modus operandi e l'innesco utilizzato per appiccare l'incendio erano comuni a tutti gli episodi, riconducibili all'unica mano di Lucifero. Nonostante fosse ristretto ai domiciliari, Lucifero avrebbe perseverato nella condotta criminale e avrebbe commissionato ad un suo amico l'incendio di una quinta autovettura. Il ruogo di cui è stato il mandante si è verificato la notte del 31 maggio scorso e ha interessato una Suzuki SX4, parcheggiata a Isca Marina. Le celeri indagini dei carabinieri della stazione di Isca hanno permesso di fare luce anche su quest'ultimo episodio. Nell'ordinanza del jeep infatti viene evidenziato che la sera del 31 maggio Lucifero si sarebbe intrattenuto fuori dalla porta della propria abitazione con un suo amico, il quale avrebbe avuto in mano una scatola di diavolina, ovvero il combustibile utilizzato per bruciare poco dopo la macchina. Dalla visione del video, scrive il jeep, e dalla successiva estrapolazione dei fotogrammi avuto riguardo della scansione temporale e del contegno tenuto da Lucifero prima e dopo il defaglare della vettura incendiata. È verosimile ritenere che lo stesso non fosse strano all'azione criminosa commessa. L'incontro del 31 maggio con il suo amico inoltre non sarebbe l'unico caso in cui Lucifero avrebbe violato la misura degli arresti domiciliari, avendo incontrato all'interno della sua abitazione persone diverse dai suoi conquilini. La Mezzia, violente lite su via del progresso, intervengono forze dell'ordine. Violento litigio nel tardo pomeriggio su via del progresso, le forze dell'ordine, polizia e carabinieri sono intervenute sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Da quel che è stato possibile ricostruire nella vicinanza un ex albergo su via del progresso, vi sarebbe stata una lite fra tre inquilini di uno stabile, un agente di polizia peritenziare e altri due inquilini. Si sarebbe trattato una lite condominiale, violente e accese, sarebbero volati spintone qualche schiaffo e il vetro della macchina di uno dei due inquilini sarebbe stato frantumato. I carabinieri stanno verificando se la rottura sia dovuta all'esplosione di un proiettile. Al momento non si registrano ferite, ma le forze dell'ordine stanno provando a ricostruire tutti i passaggi dell'accaduto per verificare l'emissione di provvedimenti restrittivi. Per Teleioni, Salvatore Condito Locri, dopo il crollo, il pronto soccorso operativo in tre ore. Tre ore, tanto e bastato, fanno notare dall'ASPA di Reggio, per rimettere perfettamente in carreggiata il pronto soccorso dell'ospedale di Locri, dove sabato hanno ceduto alcuni pannelli della controsoffittatura cadendo sul pavimento. Al momento del crollo, nella saletta dell'ingresso del reparto non c'era nessuno, per cui non si sono registrati danni a persone. Il crollo sarebbe dovuto ad infiltrazioni d'acqua dovute all'abbondante pioggia delle scorse ore. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo e sul posto sono intervenuti i funzionari dell'ufficio tecnico dell'ASP, che hanno contattato una ditta per l'immediato ripristino delle condizioni di sicurezza della controsoffittatura e dell'impianto elettrico. Già alle 19.30 di sabato, sottolinea il commissario Gianluigi Scaffidi, il problema era del tutto risolto e il pronto soccorso era perfettamente operativo e ieri mattina si è provveduto con l'installazione dei nuovi pannelli. Se una faccia della medaglia è la tempestività degli interventi, l'altra è rappresentata dagli atavici problemi della sanità, in cui il cedimento è per la CISL reggina emblematico. All'ASP, che incontreremo appena possibile, annunciano la segretaria generale Rosi Perrone e il segretario della FP CISL Vincenzo Sera, evidenzieremo ogni criticità della quale siamo a conoscenza e porremo tanti quesiti, pur confidando in buoni risultati concertativi per il prossimo futuro, a partire dall'effettiva e conseguente qualità della spesa di fondi destinati alla ristrutturazione e messa in sicurezza dell'ospedale. Parliamo di 14 milioni di euro che, fino a anno fatto, il sindacato attende un intervento immediato delle strutture commissariali ad ogni livello, perché bisogna superare, tira le somme ancora perrone, il concetto degli ospedali SPOC della città metropolitana, percepiti dai cittadini come strutture di serie B, collocandoli di fatto in quella che può essere definita periferia sanitaria della Calabria. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Chiaravalle, riaperta la strada che porta al Comune. È stata riaperta la strada che porta a Palazzo di Città di Chiaravalle, un lavoro effettuato a tempo di record da parte della ditta che ha effettuato i lavori. Come ormai ci ha abituato l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Donato, dove si può intervenire, si interviene, senza fare le solite polemiche di marciapiede. Soddisfazione per l'incarico di Vice Coordinatore Provinciale di Forza Italia di Pietro Matacera. Assumo con gioia e nobile sentimento il nuovo incarico politico quale Vice Coordinatore Provinciale di Forza Italia. Parole di Pietro Matacera. Mi preghe pertanto ringraziare il coordinamento regionale e provinciale di Catanzaro nelle persone di Giuseppe Mangialavore e Domenico Tallini per la fiducia e il riconoscimento che hanno voluto riporre in me. Fin da subito ho appreso che non sarà un percorso semplice, soprattutto per il momento storico politico in cui viviamo. Credo infatti che la politica tutta necessita di una bussola e pertanto riunire, coinvolgere e programmare sarà la base dell'arduo cammino che ci aspetta. A volte il cambiamento è per ragione di alcuni temuto e pertanto l'obiettivo che mi sono preposto è quello del lavoro sinergico insieme alle tante realtà presenti nella provincia di Catanzaro. Mi riferisco a quei territori e ai loro cittadini che ancora oggi credono alla politica vera, fatta di valori, di proposte, di crescita culturale piuttosto che di numeri algebrici e schiamazzi. Milito da sempre in Forza Italia, ho avuto il privilegio di vivere i coordinamenti in prima persona e l'ho sempre fatto con spirito di appartenenza e abnegazione. Sono convinto che lo sviluppo della nostra provincia debba necessariamente partire dall'unione di tutti e il timore di aderire a un nuovo percorso deve necessariamente condurci al risveglio dal sonno dogmatico e innescare così il moto all'azione. Insieme con umanità e determinazione troveremo stimoli e progetti da condividere e realizzare per il bene comune. Per Teleionio Salvatore Condito. Si afferma la Lega a Serra San Bruno. Prende piega la Lega a Serra San Bruno, cittadina nella quale riesce a inserirsi nel governo delle istituzioni. Al partito di Matteo Salvini aderisce infatti il consigliere comunale Salvatore Zaffino che negli anni passati aveva militato fra le file di Fratelli d'Italia. La compagine che rega come simbolo Alberto da Giussano aveva già dato segnali di vitalità con diverse iniziative e gazebo in piazza e avviando la campagna di tesseramento. Il nuovo ingresso conferisce sostanze e apre la strada ad ulteriori possibili adesioni. Il mio campo d'azione, afferma Zaffino e quello del centrodestra, il partito che meglio mi rappresenta, incarna i miei valori e la Lega. Comincio questa nuova avventura con grande passione e entusiasmo, con la voglia di contribuire alla costruzione di qualcosa di positivo per la comunità. Ritengo che le idee della Lega siano le più razionali legate al territorio e mi impegnerò per trasformare in azioni concrete. Viva soddisfazione viene espressa ai componenti della locale sereteria Fabio Valente e Antimo De Padova che ritengono Zaffino una persona seria ed affidabile, un lavoratore instancabile che certamente offrirà un apporto valido. Ci rendiamo conto e aggiungono della crescita del nostro partito che evidentemente riesce a entrare grazie al realismo e alla praticità nel cuore, nella testa delle persone. Noi continueremo con convinzione su questo percorso, sull'esempio del generoso e preficuo lavoro realizzato dal nostro presidente Nino Spirli. Dopo una fase di arretramento della politica in senso stretto, con la relativa assenza di iniziative e attività, la pandemia non c'entra, dunque si registra una ripresa dell'attività dei partiti, sponda centrodestra, con la definizione di un nuovo quadro che, inevitabilmente, si rifletterà nelle prossime competizioni elettorali, andando a cementare nuovi equilibri. Per Teleionio Salvatore Condito Fabrizia Fazio nomina la nuova giunta Le dimissioni del Vice Sindaco Vincenzo Costa portano alla rimodulazione dell'esecutivo da parte del Sindaco Francesco Fazio, il primo cittadino infatti provveduto a risistemare la giunta comunale, nominando Vice Sindaco Francesco Cirillo e Assessore Leonardo Andrea Pasqualino. Voglio ringraziare l'uscente Vice Sindaco Vincenzo Costa per aver esploatato la sua carica in modo esauriente e leale, per aver collaborato sempre, costantemente e quotidianamente per il bene della comunità fabriziese. Lo ringrazio per tutto perché ha fatto per Fabrizia in 12 mesi con la carica di Vice Sindaco. La nuova giunta ha aggiunto che è stata formata e mi accompagnerà fino alle elezioni comunali. Auguro al nuovo Vice Sindaco Francesco Cirillo e al nuovo Assessore Andrea Pasqualino un buon lavoro e una fattiva collaborazione per portare a termine tutto l'operato che è stato fatto in questi 4 anni di amministrazione. Ringrazio vivamente tutti i consiglieri comunali per la collaborazione e per il lavoro che quotidianamente stanno svolgendo per la comunità di Fabrizia. Per Teleionio Salvatore Condito San Sostene sia l'impianto di compostaggio. È stata siglata la Convenzione tra il Comune di San Sostene e il Dipartimento Ambiente e territorio della Regione Calabria per la realizzazione di un centro di compostaggio nel territorio di San Sostene. La Convenzione, che è stata sottoscritta dal Sindaco Luigi Aloisio, regola un finanziamento di 151.872 euro nell'ambito del piano di azione regionale per la realizzazione dei centri di compostaggio di prossimità nei comuni calabresi. L'impianto sarà costruito entro 24 mesi, da quando la Convenzione sarà repertoriata. Attraverso il piccolo impianto di compostaggio verranno trasformati i rifiuti umidi in compost di qualità nel sito stesso in cui il rifiuto viene prodotto. Il compost verrà utilizzato come fertilizzante con beneficio sia per la riduzione dei costi di smaltimento e sia per l'ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di gas serra, dovuta all'eliminazione delle fasi di raccolta e trasporto in discarica. Il progetto quindi unisce i principi dell'ecosostenibilità e dell'economicità, consentendo dei benefici sia per quanto riguarda la tutela dell'ambiente in linea con la programmazione politica dell'amministrazione, sia in termini di abbattimento dei costi per i cittadini. Lo scopo del progetto, ha dichiarato il Sindaco Aloisio, è quello di eliminare l'umido, che nel processo di differenziazione è la parte che va in discarica. Grazie all'impianto di compostaggio si potrà risparmiare sulle spese della discarica e del conferimento dei rifiuti, perché l'umido viene smaltito in loco e trasformato in fertilizzante biologico, non chimico, da utilizzare in agricoltura. Non solo, ha aggiunto il primo cittadino, si avranno importanti vantaggi anche in termini di riduzione del disservizio, anche in caso di blocco dei conferimenti in discarica, come spesso avviene nei mesi estivi. Intervento del consigliere regionale Luigi Tassone Il Sindaco Barilari dovrebbe essere intellettualmente onesto e dire chi ha avviato la strategia nazionale, aree interne, versante ionico, SER, chi ha lavorato per allocare le risorse, chi si è speso per elaborare le schede. Non è più tempo per la demagogia, già dimostrata in campagna elettorale, è invece il momento di dire la verità ed essere trasparenti. Il consigliere regionale Luigi Tassone, ex Sindaco di Serra San Bruno, rivendica la paternità della programmazione e critica l'atteggiamento non corretto della controparte. In questi mesi in cui la comunità è stata severamente provata dalla pandemia, sostiene, abbiamo evitato di porre in essere un'opposizione intransigente. Rispetto ad alcune questioni, a mistificazione delle realtà, non possiamo però transigere, ma dobbiamo ripristinare la verità dei fatti. La strategia nazionale, aree interna, versante ionico, SER, è stata da noi creata e portata avanti e fino alla fine si è giovata del prezioso, oltre che gratuito, lavoro di legnatucci, da me delegata e dai tre gal che hanno anche svolto un'attività di ascolto di sindaci, di imprese, di scuole, di cittadini e di condivisione dal basso. Ricordo che ad agosto l'Assemblea ha approvato la versione definitiva della strategia, un importante atto interno con il quale viene appunto sigillata questa condivisione. È ora che l'amministrazione comunale costruisca qualcosa di proprio e comincia a intercettare fondi perché finora è stato solo utilizzato il nostro lavoro. Non è possibile precise negare che è stato da noi prodotto un lavoro immane, che sono state individuate risorse destinare a progetti utili per uno sviluppo sostenibile. È assolutamente ingiusto far passare messaggi sbagliati e non riconoscendo l'importante lavoro dei tecnici e scaricare sugli altri ritardi dovuti alla pandemia e verificarsi in periodi in cui non c'era un'amministrazione comunale. Bisogna al contrario riconoscere l'attività di chi non si è certo risparmiato e ha continuato a impegnarsi anche quando è cambiata la guida del comune. Il sindaco conclude deve pensare a produrre nuovi progetti perché finora ha approfittato della dote programmatica ereditata limitando ad esattuare ciò che ha trovato. Una domenica speciale con Yalers Calabria fra le rughe del borgo di Santa Caterina dello Ionio. Un gruppo di visitatori dell'associazione Yalers Calabria ha trascorso una giornata ecoesperenziale nel borgo di Santa Caterina dello Ionio grazie ad un trekking urbano che ha visto la partecipazione di circa 40 persone provenienti dalle province calabresi. Durante il trekking urbano partito alle ore 10.30 da piazza Municipio e guidato dal maestro Antonio Tropiano e da Sofia e Raffaele di avamposto agricolo autonomo, il gruppo di visitatori ha avuto modo di passeggiare tra viuzze e rughe ammirando le bellezze del borgo tra chiese, palazzi gentilizi, piazzette e slarghi, scorci panoramici, punti di interesse afferenti al notevole patrimonio storico-culturale presente nel centro storico. Gli ospiti Yalers capitanati da Calogero Naso, Domenico Timpano e Davide Squillacce hanno avuto l'opportunità di incontrare anche abitanti autoctoni e nuovi del borgo, facendo due chiacchiere informali con Monica Guasti ed Elia Fregola, cittadini neocatarisani che nel rione Magoni hanno deciso di acquistare e di strutturare delle dimorie storiche trasferendosi a vivere. Durante l'escursione il gruppo ha avuto modo di incontrare anche il sindaco del comune di Santa Caterina, Francesco Severino, che ha patrocinato e sostenuto attivamente la manifestazione e di responsabili dell'Associazione degli Operatori Turistici Riviera e Borghi degli Angeli, rete turistica territoriale che ha collaborato all'organizzazione della giornata ecoesperenziale. Dopo una pausa pranzo al fresco presso la villetta comunale, i visitatori hanno continuato il trekking urbano in località Suvari, località di campagna in cui Raffaele Dolce e Sofia De Matteis, di avamposto agricolo autonomo, hanno accompagnato il gruppo alla scoperta di alcuni antichi palmenti rupestri. Per il momento, hanno dichiarato i due giovani abitanti del borgo, sono stati mappati e censiti 29 palmenti rupestri nel territorio rurale di Santa Caterina dello Ionio, grazie anche ad un lavoro straordinario di ricerca svolto in loco e negli ultimi anni dal gruppo archeologico Paolo Orsi, oggi sezione Italia Nostra di Soverato Guardavalle, guidata da Angela Maida e Raffaele Riverso. Un lavoro straordinario di comunità che ha saputo sprigionare un notevole forza endogena che sta entusiasmando anche tanti giovani del Paese. Giovani che proprio nelle scorse settimane hanno deciso di costituire una nuova associazione denominata APS, Fundus in Fabula. Nelle prossime settimane, sempre qui nel Paese di Santa Caterina dello Ionio, verrà presentato un nuovo libro, edito da Rubettino Editore, dal titolo Santa Caterina dello Ionio, Ambiente, Stratificazioni Culturali, Paesaggi Rurali. L'escursione ecoesperenziale e culturale alla scoperta di Santa Caterina dello Ionio si è conclusa in località Zoccolà, presso avamposto agricolo autonomo, luogo in cui proprio Raffaele e Sofia hanno avviato un progetto di rigenerazione rurale, allestendo anche una straordinaria fattoria sociale in cui i veri protagonisti sono gli asinelli Cecilia, Rosa, Plotino e Scossa. Il paesaggio e la natura, l'orto e la vigna storica dei nonni, la bellezza e la rivoluzione di un sogno condiviso.